Il modo migliore per dimagrire è fare attività aerobica. Sicuramente questa è una componente fondamentale del tuo percorso verso il dimagrimento. Ma c'è un aspetto che spesso viene ignorato ed è quello dell'allenamento muscolare. Allenandoti dal punto di vista muscolare non solo incrementi il tono della muscolatura, ma incrementi anche il numero di cellule metabolicamente attive, che vuol dire alzare il tuo metabolismo basale e di conseguenza incrementare il consumo calorico. Se oggi hai un metabolismo basale di 1000 calorie, in un'ora brucerai una determinata quantità di calorie. Se il tuo metabolismo basale fra un mese è di 1500 calorie, nella stessa ora, correndo per lo stesso tempo, brucerai sicuramente più calorie in quell'ora e di conseguenza accelererai il tuo dimagrimento. Quindi ricordati di inserire all'interno del tuo percorso, nel tuo programma di allenamento, anche alcuni esercizi di tonificazione, magari con un metodo di allenamento a circuito, cioè andando a inserire e ad alternare alcuni esercizi di tonificazione per tutti i gruppi muscolari con alcuni esercizi dinamici aerobici, così da rendere il tuo allenamento ancora più intenso ed efficace in termini di dimagrimento.